E ciao Leoni! Con molto piacere offro il mio solito minuto di pre-intro a Hashtag Salutoni Per dare un po' di visibilità a coloro appunto che me lo chiedono Spero che dopo aver finito di vedere questo video passiate ovviamente sul loro canale Iscrivendovi come ho fatto io E saluto Angelo8929 Per poter crescere su YouTube dobbiamo supportarci a vicenda Allora vi lascio il link di entrambi i canali in descrizione E questa settimana mi è andata bene perché questi sono due nomi facili da pronunciare Ma comunque saluto Jduck89 Allora partiamo con la intro Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre SunGaming106 E oggi siamo tornati qui su 30 modi per morire su Minecraft Ci eravamo lasciati nel scorso video a livello 12 Quindi iniziamo subito Questo livello si chiama Un-Harsher-H-Depth Cosa bisogna fare? Allora Io in realtà non ci starei capendo un ca Allora Allora Cosa bisogna fare? Just right click Ah così Ah Ecco il trucco Fare così Così ti cadono le frecce Però dai Ci metti tre ore Ok Bisogna fare tutto Meglio Ok Perfetto Qui sono fighe le frecce che cadono Guardate Aia Aia Che dolore Tutti questi bastoncini E' vero Le frecce sono fatte con i bastoni Aia Le frecce mi stanno trafiggendo dappertutto Oh mio dio ragazzi Guardate come siamo Siamo pieni di frecce Aia Aia Oh boia ragazzi Eravamo pieni di frecce Anche Livello 13 Ah Pozione della fame Ecco il trucchetto Ci toglie la fame Ok Io voglio bene di più Perché forse così si fa più veloce Di più Aia Mi sento molto male Mi fa male la pancia Aia Mamma mia Sì però ci metti tre ore a morire Aia Il mal di pancia C'ho il mal di pancia Aia Aia Questa pozione mi stanno facendo venire il mal di pancia Ragazzi Questa è anche una morte lente e dolorosa Al pancino No Sì a noi però al pancino Soprattutto Povero pancino Aia La pancia Sì però sto soffrendo Ci vuole tre ore eh Oddio Ho così bevuto tutte le pozioni Non sono ancora morto Strano Molto strano Che dalle Ok Una morte dolorosa e lenta Vai 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 Aia Un mal di pancia tremendo Accidenti Vai Tagli Tagli un cuore Oh Oh Mi fa male la poggio Sto per morire 3 Ok Quattordicesimo livello Enderpeer Eh ragazzi Il solito trucchetto Dell'Enderpeer Ma Oddio Oddio Mi sono bugato Mi sono bugato Oddio Passione Potions Come si pronuncia Sono una strega Lo stregone Sun Gaming 106 Ehm Qui bisogna proprio Farci duro Con le pozioni Eh Adesso Li sviluppatori Della mappa Si sono fissati Con l'Incenten Eh Però non sta succedendo Un cappero Sollecitudine Oddio Posso fare i super salti Eh si Però non sto perdendo Niente Devo bere tutte le pozioni Oddio Ma che ca... Hanno sbagliato le pozioni Qui eh Hanno sbagliato Oh no Ah questa è la pozione giusta Perché cioè Mi era venuto Quella della Velocità Della sollecitudine Che ci fa scavare Più in fretta Del veleno Adesso Non lo so Hanno sbagliato qualcosa Dai Oddio Ragazzi Con questa gra... Con questa visuale Sembra davvero Che ci stiamo drogando Oddio Mamma mia Oddio Ma quanto ci vuole Tre ore? Oddio Oh my god Dai E muori Ok Forse devo ubriacarmi Ancora di più Ubriacarmi Per ancora più pozioni Perché mi si è regenerata Una barra della fame? Questa mappa è strana Nelle notizie che ho visto Era molto diversa Molto 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 Diversa Davvero E dagli un po' Eh ma che siamo Dai Devi morire Devi morire Oh Finalmente Soffocate Soffocamento Ecco cosa vuol dire Eh eh Sono Un esperto No Aiuto Sto 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 Soffocando Aiuto No Ai Ai Non voglio morire così Ti prego Ti prego Ti prego No 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 Morte crudele Molto Perfetto Siamo risponati What To do Ok La morte più Figa Cliccare Un bottone Ecco Witchery No Ti prego Adesso basta Adesso io muoio in questo Io non sono esperto Nel chant Scappiamo dagli Enchant Ragazzi Scappiamo Aiuto Sto andando Nell'altra parte Del mondo Ragazzi Ho saltato il livello Perché io faccio Proprio schifo Sugli Enchant Look up Ok Look up Oh My God Ma che Che Ma Mi sono Buggato In aria No Basta 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 Stati Nt Basta Ma che Guardate Cos'è rimasto Solo lo Signale Mamma mia Tutti i Command In Tirta Pig Tunnel Ok Prendiamoci Il Maialino E Credo Che Questo Maialino Io Ovviamente Insieme A Questo Maialino Non Faremo Una Bella Fine Lo Credo Di Già Faremo Una Brutta Fine Ok Li Metto La Sella E Andiamo Vai Maiale Ho detto Vai Maiale Vai Maiale Maialino Ma Allora Qui Devi Stare Dritto No Cosa Fai Non Hai Capito Vabbè Questo Maiale È Difettoso Molto Difettoso Molto Difettoso Ok Adesso Questo No La Sella Ma Maialino Maialino Resta Lì Te Non fare Una Brutta Fina Adesso Questo Lo Metto Qui Non Ti Gira Siete Proprio Dei Deficienti Però Eh Ma Siete Proprio Deficienti Con la carota Vai Gra Dai Vai Zio Ce la puoi fare Grande Zio Vai Maialino Ricevererai Ricevererai Riceverai Un mio Chilli Carote Quando saremo Arrivati Guardate L'altro Maiale Ci segue Non Seguirci Farei Una brutta Fine Oddio Dai Cammina Perbene No No Maialino Fermo Devi andare qua Gira No No Aiuto Aiuto Sto andando All'altra parte No Povero Maialino No Povero me E anche Povero Il maialino Sicuramente È morto Anche L'altro Maialino Oddio Questo è Contro i maiali Contro i maiali Allora Una sella Spawn horse No Non mi Dira Sì È quello Che penso Io È quello Che penso Io È quello Che penso Io No Povero Cavallo Ma Siete Contro gli Animali È Guardate Avete Presente Laggiù Dove C'è La Fiamma Il fuoco Dove C'è Quella Striscia Rosè Ho Visto Il cavallo Morire Era Giovane Tanto Giovane Oddio Mi Sera Borgato Un attimo Minecraft Devo Cliccare Di nuovo Il cartello What Do Ecco Lo Sapevo Cosa Viene Dal Ok Io so Già Cosa Devo Fare Cactus Abbracciatemi Infizzatemi Le vostre spine Mamma mia Vai Muori 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 Ce l'ho Fatta Grande Zio Autokill Ok Siamo al 26esimo Livello Io direi Di conclu Proprio in questo Episodio Sicuramente Finiremo La mappa E Per chi Vuole giocare In questa mappa Prima di suicidarci Di suicidarci Ovviamente Ve lo dico Basta che vada Nel video Precedente Che vi lascerò Ovviamente Nella descrizione Andate Controllate La descrizione Ovviamente Nell'episodio Precedente Della mappa E troverete Il download Per la mappa Quindi L'installate La inserite Vi dico Un po' Il processo .minecraft Sales E finito E questa mappa E' compatibile Solo per la 1.8 Quindi se mettete 1.9 I command Proprio non funzionano Ecco La morte E' bello Oh raga E' partita E' partita Una musica E' la musica Del disco Carina Eh Ah Ecco Ecco Qui Devo Molli Proprio E' buon Natale E' buon Natale A tutti Babbo Natale Credo che farà Una brutta fine Aia Mi sto bruciando Guardate Sono io Babbo Natale Mi son bruciato Aiuto No No Mamma mia Che urlo Wolf Attack Mamma mia Questa musicina E' davvero simpatica Carina What to do Ecco Madedetti Mordetemi Mordetemi Aia Aia Mi stanno mordendo tutti Oh mamma mia E' che era Una strace La copia Di livello 28 Si è la copia Però ci sono i pigmen Oh i pigmen Almeno ci mettono Di meno A ammazzarmi Livello 30 What comes down From the stone Il temporale Ecco stormy Temporale E ragazzi Ed ecco 30 modi Per morire In minecraft Lo aggiungo io In minecraft Ragazzi Questa è stata davvero Una mappa Davvero figa Davvero Vi consiglio Subito Di installarla Perché davvero Mi sono davvero Molto divertita A giocarci Qui insieme a voi Ovviamente Perché guardate Quanto è figa C'è laggiù Come vedete Ci sono tutti i livelli E tutte le brutte fine Che hanno fatto Che abbiamo fatto noi Qui possiamo vedere Come hanno organizzato Una mappa Qui ci sono No 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 Oddio Ho messo in crash La mappa No No Ok Oddio Ho bugato la mappa Ho scritto qualcosa Sono dentro un comod Vabbè Chi se ne frega Tanto l'abbiamo finita Guardate che figata E poi c'è ancora la musichina Se non la sentite Me la sento Qui dove siamo morti No È morto anche il cavallo Qui c'era anche il cavallo Che è morto È morto il cavallo Si è droppato la sella Ragazzi Questa è una mappa Davvero epica E figa Poi guardate come finisce Finisce davvero benissimo Ok Intanto io mi Metto qua No Ho sbagliato Volevo Rimettermi qui Ecco come finirà Questo video In questa posizione Adesso Madonna Questi blocchi barriera Oddio Dai E dall'ie Ma dove Le hanno messi dappertutto Oddio Ok E questo video Finirà proprio In questa posizione Sì Soltanto se non cado Perché È probabile Che cadi Vai Vai Oh grande È così che finirà il video Comunque ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un bel like E anche Ovviamente un commento Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E noi Ci vediamo nel prossimo video Ciao raga